Salve e benvenuto al Big Top Burger, dove il nostro motto è gomme bollenti e panini caldi. Oh, che motto intrigante. Potrei avere un panino semplice, per favore? Oh, arriva subito. Ehi, Tim, posso avere un panino semplice? No, non puoi. Un secondo, signore. Ehi, Tim, che succede? Il fornello è scomparso. Qualcuno lo ha staccato di forza dal muro. Cioè, probabilmente è stato Steve. Ma perché dice così, Billy? C'è tipo una scia di grasso verso il suo ufficio. Solo un secondo, signore. Steve, non è che hai visto il fornello, vero? Ah, eccolo lì. Steve, che stai facendo? Preparo qualche delizia per la bancarella di mia figlia, ovviamente. Oh, wow, Steve, non sapevo che avessi una figlia. Non credo ce l'abbia. Steve, amico, il fornello non è nemmeno collegato alla corrente. È un cliente, quello che vedo. Ciao, bel bambino. Io? Cosa vorresti in questa bella giornata? Ok, mi sto sentendo un po' preso in giro, ma mi ripeterò. Solo un panino semplice. Per favore, signore. Che bambino meraviglioso. Eccoti una mancia. Aspetta un secondo. Buon Natale a te, ragazzo mio. Ah, bene. Buon Natale anche a lei. Non siamo a giugno. È al 100% giugno. Come on! Come on!